Grazie. Grazie. Siamo qui di fuori assieme alle Cicogne e assieme ai comitati degli ospedali di montagna per la chiusura dei punti nascita, anzi contro la chiusura dei punti nascita. L'assessore Venturi si piega al consiglio che ha dato il Ministero, consiglio che in realtà deriva dalla documentazione che proprio la Regione ha dato. Quindi ovviamente se la Regione Emilia Romagna al Ministero ha mandato dei documenti dove si suggeriva tutto sommato alla Lorenzina di chiudere i punti nascita, poi sostanzialmente è una presa in giro verso i cittadini. Nel contempo l'assessore Venturi continua a dire che investiranno nella sanità, però vediamo Bonaccini che inaugura sale operatorie private e poi chiude i servizi essenziali per la montagna. Se la Regione volesse potrebbe veramente tenere aperti i punti di montagna cambiando l'organizzazione delle strutture sanitarie. Noi abbiamo fatto proposte concrete, abbiamo proposto la rotazione del personale per mantenere i parametri di sicurezza. È solamente volontà politica, per il resto è solo una presa in giro. Grazie. Grazie.